Dalla Stazione Spaziale Internazionale all'isola di Lampedusa, Samantha Cristoforetti, astronauta e neombasciatrice dell'UNICEF, incontra le forze dell'ordine impegnate nell'accoglienza. Visita il primo spot d'Italia che ospita oltre 500 migranti. Questo viaggio è incredibile e questi sono i fortunati che ce l'hanno fatta peraltro, perché chiaramente... ...tele distanze. Il Mediterraneo alla fine da lassù sembra una pozzanghera e in qualche modo viviamo tutti quanti intorno a questa pozzanghera. È evidente che non è che ci si può in qualche modo barricare o fortificare nel nostro benessere. In qualche modo dobbiamo trovare soluzioni che permettono a tutti di stare bene. In questo momento, in questa situazione di emergenza è evidente che la prima cosa a cui dobbiamo pensare è l'accoglienza.